200 euro al mese, il costo di un profugo, l'operazione Mare Nostro ci costa un miliardo di euro. Credo che abbiamo piangere un popolo fiero, di chi è che non si è piangere un popolo di farci spiegare alcuna cosa. Matteo Salvini, assolutamente leader da contrapporre a Matteo Renzi, non ce ne sono altri oggi di leader in Italia. Noi non andiamo a bruciare i cassonetti e a distruggere le città, ma le lasciamo più pulite di prima. La Roma è la romana, non posso mai essere felice nel fatto che questa risposta parta da Roma. C'è la Roma che pensa che sia assurdo e non sopporta che vengano assaltati i centri rifugiati politici per migranti a Torsapienza. C'è la Roma che non sopporta di pensare che la città è a mano a chi fa i profitti, che la città è svenduta. C'è la Roma che non si fida né di Marino né di Renzi, tanto meno di Salvini. Riabituiamoci a riempire le piazze, l'abbiamo fatto per anni, abbiamo ricominciato oggi, non andiamocele più. Siamo più dei leghisti e dei fascisti che si sono dati appuntamenti a Piazza del Popolo. Ma il popolo si è visto qui, in queste strade, e riprende presso a camminare. Continueremo giorno dopo giorno a portare le nostre politiche anticapitaliste, antirazziste e sociali nei nostri quartieri. Fermiamo quest'invasione di leghisti e fascisti. Iniziamo da oggi. Grazie a tutti quei compagni e quelle compagne che in queste settimane si sono battute nelle strade di questa città per rendere la degna del suo nome e della sua medaglia d'oro. Grazie compagni e compagni, onore a Roberto Cialabba, ammazzato dai fascisti, onore a tutti i compagni e le compagnie cadute in questi anni, a Renato Piacenti, a Dax, ad Auro Bruni. Noi non dimenticheremo mai i loro occhi, i loro occhi stanno qui, in mezzo a queste strade. Grazie a tutti e a tutte. E' un po' zardata, ma come tutte le pronombre di quando si riconquistano diritti e spazi. Oggi ci stiamo riprendendo la città e siccome siamo troppi e non ci entriamo qui, siamo per andare a finire il corteo verso il Colosseo e quindi la testa diventa la coda e la coda diventa la testa. Invertiamo la marcia tutti insieme perché in come insegna la parte di Susa si parte e si torna insieme. E' un po' zardata, ma come insegna la parte di Susa si parte e si torna insieme. E' un po' zardata come Atene, siamo tutti, siamo con lo scrivo nel cartiere, dovrà rimanere, la cima non lo dà. Ave, 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 ave! Ave, 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 ave! Ave, 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 ave